Fito, terapia, erboristeria, rimedi naturali per il benessere di tutta la famiglia. Questo è il tema del seminario completamente gratuito che faremo il 26 ottobre dalle 21 alle 22.30 in diretta YouTube e Facebook. Grazie a Family Academy, il progetto coordinato da Pala Acquisti per Immobiliare San Pietro. E durante questo seminario affronteremo tantissime tematiche, quindi l'erboristeria, quali materie prime scegliere tra argille, piante, oli, burre, idrolati, le erbe, i fiori da utilizzare, i metodi di estrazione, ma anche le tinture, come fare le tinture madre, officinali, le tisane, infusi, decotti, ma anche le formulazioni dell'unguento. E tutto ciò che ci serve per curare, rendere più bella, più luminosa, i piccoli rimedi per la pelle, sia maschile che femminile, e poi ovviamente le conservazioni. Tutto questo all'interno di un seminario. Io sono Lucia Cuffaro e per potersi registrare basta compilare il link collegato a questo video sui Benbrite per ricevere appunto non solo tutte le info per partecipare all'evento, ma anche la dispensa scritta appunto in occasione di questo incontro con tutte le ricette. A prestissimo! Ciao!